Il 23-2024 è la trentatresima giornata, una buona pomeriggio e benvenuti allo stadio Toghini! Parmi Calcio 1913 Spezia, gli ospiti scenderanno in campo con il numero 1 Zolt, numero 7 Elia, numero 8 Noji, numero 10 Esposito, numero 16 Falcinelli, numero 29 Cassata, numero 37 Mateju, numero 43 Nicolaou, numero 55 Ristov, numero 80 Kuda, numero 99 Verde, allenatore Luca D'Angelo, a disposizione con il numero 40 Zofco, numero 5 Tanco, numero 9 Pio Esposito, numero 13 Reka, numero 14 Vignani, numero 15 Pietra, numero 20 Di Serio, numero 26 Moro, numero 33 Ghilashvili, numero 36 Candelari, numero 77 Bertola, numero 97 Ianiello! numero 32 Eben Zanotto, numero 69 Eben Zanotto, numero 32 Eben Zanotto, numero 31 Dave,sea, numero 32 Capitano Crocciato, numero 29 Ianiello! numeroAlexandrie, numero 49 Eben Zanotto, numero 38 Eben Zanotto, Nomenico Nazionotto, Nomenico Nomenico Adolfo, Nomenico, Nomenico Nomenico! Con il numero 23, Teresa Camara. Con il numero 27, Ermani. Con il numero 28, Valentin Migliaia. Con il numero 39, Alessandro Ciccati. Con il numero 47, Vasineios Zaglidis. Con il numero 64, Willy Siprien. Con il numero 98, Denis Svon. Allegatore, Fabio Becchia. A disposizione, con il numero 22, Martin Turk. Con il numero 40, Edoardo Corvi. Con il numero 4, Botond Balog. Con il numero 7, Adrian Benediccia. Con il numero 8, Nawel Estevez. Con il numero 9, Gabriele Schampetti. Con il numero 14, Cristian Alessandri. Con il numero 17, Antonio Ciola. Con il numero 19, Simon Sop. Con il numero 20, Antoine Edo. Con il numero 21, Anthony Bartepio. Con il numero 77, Gianluca Di Chiara. Abiterà l'incontro Giuseppe Corru di Cagliari. Con iuato da Vittorio Di Gioia, di Nola. E Claudio Barone, di Roma 1. Quarto ufficiale, Marco Emanuele di Pisa, al VAR. Lorenzo Maggioni di Recco. E Giacomo Paganessi, di Bergamo. FUZZI PERMA!